I 417 dipendenti delle province e della città metropolitana che oggi lavorano nei 53 centri per l'impiego sul territorio toscano da fine giugno saranno trasferiti nella nuova agenzia regionale per il lavoro prevista dalla proposta di legge firmata dagli assessori regionali al lavoro Cristina Grieco e al personale Vittorio Bugli. Il provvedimento è stato presentato in regione dal presidente Rossi e punta a stabilizzare entro il 2018 anche i 100 lavoratori a tempo determinato dei centri per l'impiego. Le risorse, 22 milioni e 400 mila euro, sono state stanziate dal governo. A queste 417 persone che regolarizzeremo tutte, compreso anche una serie di situazioni di precarietà, di precariato, di tempi determinati che ci sono, si aggiungono più di 400-500 persone che sono invece al lavoro attraverso un appalto che abbiamo fatto a suo tempo su questa materia. La proposta di legge prevede che programmazione, monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro restino in capo alla regione. L'agenzia regionale per il lavoro si occuperà di gestire i servizi e la rete dei centri per l'impiego a cui oggi si rivolgono 300 mila utenti e 17 mila imprese. A questo punto noi abbiamo non solo la responsabilità dei centri per l'impiego e la competenza sulle politiche attive che appunto è regionale in concorrenza con lo Stato naturalmente, ma abbiamo anche il personale, quindi qualsiasi tipo di rafforzamento quali quantitativo, cioè penso alla formazione, qualsiasi tipo anche di procedura che mettiamo in campo sarà una procedura omogenea su tutto il territorio regionale. In materia di lavoro, con il piano integrato per l'occupazione, la regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro, il 70% per le aree di crisi. I centri per l'impiego, secondo un'indagine IRPET, sono molto apprezzati dal 92% degli utenti e da 8 imprese su 10 che vi si sono rivolte.